Si derono a un bellissimo mare, una stagione lunga tanti mesi, dei monumenti storici, dei borghi antichi. Si derono in questi anni affrontato tanti problemi di tipo ambientale. Abbiamo in questi anni cercato di risolverli. Pensavamo che bastasse questo. I rifiuti vengono tutti contenuti in edifici chiusi, messi in depressione, quindi con aspirazione di aria. L'aria viene trattata con delle pertinenze tecniche e tecnologiche che sono sostanzialmente un biofiltro che permette l'abbattimento dei cattivi odori. Un letto di legno, quindi materiale vegetale, che effettua una funzione di filtrazione delle particelle d'origine che vengono emesse in atmosfera. Noi siamo praticamente sopra il letto del biofiltro, il sistema di depurazione dell'aria dell'impianto. L'aria esausta dei vari locali dell'impianto viene aspirata e convogliata tramite quel tubo che potete notare e insufflata al di sotto di questo letto. Il biofiltro è composto da legno vergine, si tratta di quercia e faggio soprattutto. La flora batterica di cui è composta questo biofiltro ha la funzione di eliminare le molecole che producono il cattivo odore. L'aria esce da questo biofiltro depurata e viene rimessa in atmosfera. Qua se noi ci leviamo la mascherina sentiamo quasi un odore di sottoposco, come se ci trovassimo quasi in aperta montagna. Ho fatto un errore in questi anni che sono tornato da Torino. Impegnarmi per l'ambiente, perché il problema della BP forse l'abbiamo risolto. Quello dei pozzi inquinati intorno alla Siga non siamo ancora riusciti a capire cosa succede. Le puzze intorno al TMB, puzze, diciamo veleni, parliamo di cose serie. Sono sostanze chimiche che agiscono sui polmoni, che possono potenzialmente cancerogene. Ci sono le particelle, le microparticelle. La gente sta male, non esce di casa. Scopriamo che basta avvicinarsi all'impianto TMB, salire sul biofiltro e troveremo un'aria pulita. La gente sta male, non esce di casa. La gente sta male, non esce di casa. In questi anni abbiamo dimostrato che quello che si definisce puzza in modo generico, sono sostanze nocive alla salute. Quando si presenta un video in cui si cerca di raccontarci quello che diciamo è falso non si può stare in silenzio